Siamo arrivati un po' al limite di quello che è stato lo sviluppo dell'intelligenza artificiale fino ad oggi e quindi del fatto che da una parte si utilizzano modelli per l'intelligenza artificiale e dall'altra si utilizzano i dati. Oggi sempre di più abbiamo bisogno che ci sia un'interazione tra modelli e dati e quindi avere quella che si chiama un'intelligenza artificiale di tipo ibrido e che ha anche l'obiettivo di diventare generativa, cioè di creare a sua volta dati che possono essere utilizzati per applicazioni dirette.